I parti cesarei in Puglia sono ancora troppi. La regione per questo ha imposto alle Asle una stretta agli interventi chirurgici quando non sono strettamente necessari, soprattutto sui parti primari. Un problema non nuovo che non riguarda solo la Puglia, tant'è che nel 2018, dopo l'accordo Stato-Regioni, fu istituita anche una task force punti nascita con l'obiettivo proprio di ridurre tali cesarei. Ma sebbene migliorati i dati che arrivano dagli ospedali dicono che c'è ancora bisogno di intervenire in tal senso. I dati di riferimento sono quelli del nuovo sistema di garanzia e impongono una soglia oltre la quale i reparti non possono andare. Nei punti nascita di primo livello i cesarei non possono essere più del 15% dei parti totali, mentre in quelli di secondo livello non potranno superare il 25%. La regione dunque ha diramato le nuove disposizioni con tanto di sanzione laddove ci siano sforamenti. Per le strutture con meno di mille parti l'anno, quindi di primo livello, la tariffa DRG, quella cioè che viene rimborsata dalla regione alle ASL per ogni ricovero, verrà ridotta del 20% se lo sforamento dei parti cesarei primari sul totale dei parti sarà tra il 15 e il 20%, una sanzione che raggiungerà il 40% se si sforerà la soglia del 20% dei parti. Per le strutture con oltre mille parti l'anno, la sanzione sarà del 20% sulle tariffe se la percentuale di parti cesarei sarà compresa tra il 25 e il 30%, del 40% se i cesarei supereranno il 30% dei parti totali. Stando ai dati attuali rischiano la sanzione il perrino di Brindisi che nel 2022 ha registrato il 37,2% dei parti cesarei primari sul totale dei parti, il Santissima Annunziata di Taranto che ha raggiunto il 29,2% e seppur di poco il Vitofazzi di Lecce con il 25,7%. Bene invece il panico di Tricase che è ricorso al taglio cesareo primario nel 22,8% dei casi, al di sotto della soglia imposta. Molto peggio va nelle strutture di primo livello, cioè con meno di mille parti l'anno. Tutte sforano il tetto in posto, tutte sarebbero sanzionate. Nelle Cese l'ospedale di Scorrano sfora la soglia del doppio arrivando al 31,9% dei parti cesarei primari sul totale dei parti. Male anche Garaltina con il 27,2% e Gallipoli con il 26. Non cambia nel Brindisino. Francavilla Fontana raggiunge il 29,6% dei cesarei primari. Come nel Tarantino dove gli ospedali di Castellaneta Marina e Martina Franca rispettivamente toccano quota 28,2% e 27,7%. Per tutti la sanzione sarebbe del 40% sul rimborso della tariffa. Ogni tre mesi le ASL dovranno mandare i dati aggiornati alla regione per monitorare l'andamento.